11 luglio 1899 nasce la fiat a palazzo bricherasio di torino nove imprenditori costituiscono la società anonima fabbrica italiana automobili torino per importare in esclusiva ricicli francesi dotati di motori a scoppio tra quei notabili sabaudi c'è il cavaliere giovanni agnelli dotato di fiuto e lungimiranza punta a produrre la vettura in scala è appena iniziato il nuovo secolo quando viene inaugurato il primo stabilimento in corso dante i lavoratori sono una trentina l'azienda conosce un rapido sviluppo oltre alle automobili la ragione sociale viene allargata trasporti ferroviari i mezzi di navigazione e aeroplani agnelli ne diventa il maggiore azionista dopo il primo conflitto mondiale e anche grazie alle forniture per l'esercito italiano fiat diviene il terzo gruppo economico del paese nel 1923 il fondatore viene nominato senatore del regno in quegli anni nel nuovo stabilimento del lingotto il lavoro viene organizzato con la prima catena di montaggio parallelamente agnelli rivolge il suo interesse di suoi capitali anche verso la carta stampata e lo sport dopo la prematura morte del figlio edoardo presidente della juventus sceglie il nipote già anni come successore alla guida dell'azienda Kirillato chioste qui chiun 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 Grazie a tutti.